. Uomini e donne, Gemma rivela rock come ha usata, Giorgio un signore Gemma Galgani, la dama più famosa e più discussa del trono over di Uomini e donne, ha rilasciato un'intervista al magazine della trasmissione in cui ha parlato delle esperienze più importanti avute durante il suo percorso di permanenza negli studi Mediaset. . Nel caso specifico ha parlato di Giorgio Manetti e di Rocco Fredella ed ha espresso pareri molto contrastanti in merito ai due cavalieri. Uomini e donne, Gemma parla di Rocco Fredella e svela, Mia usata. . Gemma Galgani ha speso prima qualche parola su Paolo dicendo di essersi illusa di aver trovato una persona in grado di donarle serenità e tranquillità ma si sbagliava. . In seguito ha poi affrontato il delicato tema inerente Rocco. . La dama ha svelato di essere rimasta molto delusa da lui. . Secondo l'opinione della Galgani, infatti, quest'ultimo l'avrebbe usata solo per scopi televisivi, per incrementare le sue serate e ospitate, Rocco mi ha usata ha sbottato la protagonista dell'intervista. . . Uomini e donne, solo parole dolci per Giorgio, un signore, ero innamorata. . Successivamente, è passata a commentare il suo grande amore Giorgio Manetti. . La loro storia, durata poco meno di un anno e naufragata diversi anni fa, è stata la relazione più importante instaurata dalla dama all'interno della trasmissione. . . Nonostante le cose tra i due siano finite definitivamente, Gemma Galgani ha voluto spendere solo parole positive per il famoso gabbiano. . . . . .